Ciao a tutti, oggi sono qui con un altro unboxing e in particolare è il Nest Thermostat E, quindi è un termostato smarter sto cercando di ottenere la mia casa smarter quindi questo è il mio prossimo passo e questa è la box qui puoi vedere che c'è l'Hitlink quindi questo è un dispositivo che è mandato per l'Europa mercato, non so da l'Europa e il Nest Thermostat E è il termostato low end termostato di Nest ma ha solo alcuni elementi che sono missing in comparazione con il termostato learning termostato ma anche ha alcune differenze più difficili e questo è particolare per cui ho fatto questo invece del termostato learning termostato e magari in un video dedicato a discutere con voi la ragione per cui ho deciso di comprare questo invece del termostato learning termostato ora proviamo a prendere questo plastico e ottenere la box mi dico che la box sembra abbastanza buona è molto solida e anche non è così piccolo e non avevo aspettato qualcosa di diverso ora ci sono alcuni stickers mi riuscivo a prendere ok Ok, ora dovrebbe essere potuto aprire, e qui andiamo, è il top, potete vedere che c'è qualche materiale per proteggere il termostato e questo è il termostato, è anche una buona presentazione quando aprire il paese, il termostato è metallo per la base e il stand, ha qualche rubber grommet per evitare di essere scoppiato, il circolo è plastico invece di metallo, light per il termostato, e ha il botto che è sul centro, anche il cibo è abbastanza decento, probabilmente non dovrebbe avere nessun problema, e qui sotto abbiamo il power adapter, che è usb, e è rispetto a 1.4 ampere, come potete vedere il cibo non è attaccato al plug di power, è qualcosa che mi piace davvero, e questo è il heatlink, potete vedere che c'è qualche attaccato di fabbrica, c'è un botto sul centro, qui abbiamo il hole per i cibo, e se lo apremmo, credo che prendiamo questo plastico, ma non voglio rompere, quindi non faccio questo ora, in un altro video dove vi presento la rivoluzione e altri aspetti del termostato, in questo peggio, abbiamo alcuni paperi, quindi una guida di iniziata di iniziata, alcuni stickers per l'installazione, anche il contenuto della box, quindi abbiamo il termostato, il heatlink, il screw per montarlo, una pianta per coprire, magari alcuni holes per la cibo, alcuni pin per coprire l'open cable, e il power adapter, qui abbiamo alcuni altri presenti, un guide di iniziata di iniziata, e il warranty, come potete vedere, non c'è un'instruzione, perché tutte le instruzioni sono nella next app, quindi dovete downloadarlo per guardare come installarlo, o anche controllare il video che potete trovare su YouTube, questo è il backplate, opzionale, quindi potete utilizzarlo se bisogna di coprire la cibo, oltremmo non necessario, qui abbiamo alcuni altri strumenti che sono difficili a prendere, ok, questi sono i clipi per cercare l'open wire che potete avere, depending sull'installazione, e poi le ultime pezze sono i due mounting screws, che sono posizionati in questo, sicuro che non sono così facile da prendere, come potete vedere, anche questi due, e come ho detto prima, il termostat è molto metallo, ma c'è qualche plastica, e non avevo aspettato da leggere la specificazione che fosse più plastica, ma in realtà la base è metallo, il plastica è solo il circolo e anche il display, che sembra molto frosty, per guardare le immagini sul sito, invece non è così frosty, ma poi ancora, vi farò vedere in un nuovo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.